Negrini Ceramiche. Vesti la tua casa con stile. Negrini Ceramiche si trova a Villa Santa in Viale Monza numero 1, con un'ampia esposizione ed un parcheggio interno. Si occupa di fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti in ceramica, grass porcellanato, mosaico, marmo, pietra, parchè e laminati, ma anche di sanitari, vasche e docce idromassaggio, rubinetterie, arredobagno e box docce. La nostra esposizione da diversi anni è punto di riferimento per privati, architetti, progettisti, professionisti ed imprese alla ricerca di soluzioni nuove ed uniche per le loro opere. La Negrini Ceramiche si occupa inoltre di progettazione e realizzazione di ristrutturazioni di interni grazie alla professionalità e all'impegno del gruppo di geometri presente in esposizione e dal qualificato team di muratori, piastrillisti, idraulici ed elettricisti che collaborano da sempre con l'azienda. Vi invitiamo per maggiori informazioni a visitare il nostro sito www.negriniceramiche.it o di passare a trovarci presso il nostro showroom.